salve tutti watching bari e benvenuti nella nostra prima recensione su un cartone di xilab zigg e sciarco detto anche zigg e sciarg nato nel 1974 con con i fumetti del 2009 e ancora in corso tre stagioni e 147 episodi allora la serie parla di uno squalo e una lince che fanno case anche se la lince sembra un po un cane e tutto si basa sulla lince che vuole mangiare la sirena che è la fidanzata di sciarco ok le prime due stagioni si inaugurano in un'isola dove nella prima marina e shark vivono nella stessa casa dalla seconda stagione marina una casa e poi nella terza sono in una barca da crociare in mondo noi nel video dei nostri cartoni preferiti abbiamo messo pure questo perché ci piace tanto certo alcuni potrebbero pensare che che stiamo pensando il contrario di cosa pensate voi sappiamo che questo cartone ha ripeti tipo come la cacca nel senso che che zig fa le stesse cose e così via però almeno un cartone divertente vabbè ci sono anche tanti altri personaggi è un personaggio molto importante e anche bernie certo che quella lumaca di mare che aiuta sempre la lince zig che sono amici per la pelle c'è anche shark che uno squalo ed è forzutissimo sei e tanta roba e la cosa che apprezzò di questo cartone è anche la sigla giusto che anche la musica è bella e già si allora è arrivato il momento di dire una nostra opinione su zig a sciarco a noi piace tanto io gli darei un bel otto su dieci 8 su dieci è un ottimo voto si e così via allora una cosa che apprezzò di questo cartone è che si svolge su un'isola almeno per le prime due stagioni e i paesaggi sono bellissimi e poi quando sono sulla nave è ancora più bello nel senso che sembra proprio una vera nave da crociera certo presa da uno scoglio vero però però mi aspetta batto un filo da 40 minuti no perché c'è poca roba da dire su questo cartone animato in pratica e questa è la nostra prima decisione su un cartone di xilam qui quindi non ha proprio un senso logico ci sono pure degli episodi dove fanno i ricordi flashback e cose fanno cose questi qua e così via ok ragazzi anche per oggi abbiamo terminato e così via loro fanno cose e tutte queste per la mia recensione di la nostra e vi auguriamo una buona vacanza cassa video